Torna sabato 25 maggio la mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma ed altre patologie cutanee. Maggio, infatti, è il mese della prevenzione del melanoma e di conseguenza l'iniziativa promossa dalle farmacie comunali di Arezzo in collaborazione con il Calcit ha il duplice obiettivo di sensibilizzare verso l'importanza di effettuare controlli periodici per monitorare il proprio corpo ed informare sulle piccole accortezze necessarie per prendersi cura della pelle in vista della stagione estiva. Diciamo che il momento è già questo perché il sole comincia a essere già significativo, è molto più forte ora che a ferragosto quindi le attenzioni per il sole vanno iniziate fin da ora e soprattutto va sensibilizzato proprio la popolazione a proteggersi e queste iniziative servono proprio a questo, a sensibilizzare, a proteggere la propria pelle e ogni tanto guardare le macchie che sono presenti sulla pelle. Gli ambulatori della farmacia comunale San Giuliano ospiteranno così le visite su prenotazione che permetteranno di effettuare una valutazione della pelle finalizzata ad una diagnosi di lesioni sospette o neoplastiche. Quelli che vengono anche comunemente detti nei, allora il problema è che se succede qualcosa su queste lesioni, se si trasformano in lesioni pericolose tumorali cambiano, quello che bisogna guardare nella nostra pelle sono i cambiamenti. Una macchiolina che magari è stata per anni sempre uguale comincia a crescere, ad allargarsi, a cambiare forma, a cambiare colore, a cambiare i bordi. Sono tutte alterazioni che naturalmente con una visita si riescono a cogliere ancora meglio, ma è il paziente stesso che se presta un pochettino di attenzione riesce a notare questi cambiamenti e quindi farsi vedere, farsi controllare.